Il comando provinciale dei vigili del fuoco di Arezzo fino all'ingresso del pronto soccorso dell'ospedale San Donato per portare un dono di Pasqua e un casco dei vigili del fuoco. Abbiamo portato anche questo casco, è il nostro simbolo e per la nostra vicinanza che sia di buono auspicio e vi alzi su di murale quando pensate che almeno noi siamo, ma penso che tutta la popolazione siamo convocati. Così il comando provinciale dei vigili del fuoco di Arezzo rende omaggio ai medici e ai sanitari dell'ospedale San Donato e porta i propri auguri. Grazie. Grazie.